La sua compagnia presenterà proprio su questo palco, nell'ambito del palco, nella stagione teatrale voluta dall'assessore alla cultura Giuliana Colucci, insieme al direttore artistico Rosario Mastroserio, una rivisitazione del balletto di Maurice Béjar, il Molière Imaginaire. Com'è mai la scelta di rappresentare un'opera che è incentrata sulla figura del grande commediografo francese? È una scelta affettiva, perché Rota è sempre stato legato alla città di Bari da tantissimo tempo, in più io sono un amico di un suo discepolo, Nicola Scardicchio, con cui abbiamo sempre parlato da quando eravamo giovanissimi, del Béjar e del rapporto Béjar-Rota. Tant'è vero che Nicola Scardicchio ha anche trascritto alcune pagine del maestro. Infatti quando l'abbiamo portato a Bari, Nicola ha fatto questa conferenza proprio sul Molière di Rota. E la cosa interessante è che c'è una serie di doppi livelli di lettura, perché Béjar si chiama come, ha preso lo pseudonimo come Molière, e ha preso lo pseudonimo della prima attrice di Molière, che si chiamava Madeleine Béjar, che è anche un personaggio all'interno dello spettacolo. Quindi c'è una serie di doppi livelli, quindi Rota ha lavorato con Béjar, mentre Molière lavorava con Lully, che era un italiano che ha portato. Quindi ci sono tanti livelli di lettura. Poi la musica è bellissima, difficile, è bellissima. Io mi sono ispirato più all'idea drammaturgica di Béjar e Rota, però non ho seguito le coreografie, ho fatto il mio lavoro coreografico, drammaturgico, molto attento, molto preciso sulla musica e sul periodo storico. Come ha detto lì, saranno utilizzate le musiche originali di Nino Rota, uno dei più grandi compositori italiani del XX secolo. Quanto incide, quanto è determinante la scelta delle musiche nella riuscita complessiva di uno spettacolo di danza? Allora, guarda, la cosa che ci contraddistingue è che la danza come la musica non ha bisogno di parole, quindi nel momento in cui il disegno coreografico, l'idea e i danzatori sono forti, il pubblico viene coinvolto dalla musica. Utilizzare Rota, come ti ho detto prima, è stata forse un'esigenza in un momento di un ulteriore traguardo della mia carriera, che dura ormai da 36 anni, da danzatore a coreografo. Poi tra l'altro, questo stavo dicendo prima, è andato in scena a Bari, alla rassegna di cui sono il direttore artistico, all'Abeliano, facendo parte del Tric, i due teatri, Chisma e Abeliano, che si sono uniti insieme, lo devo dire per correttezza, è il comune di Bari e il teatro pubblico pugliese, per cui siamo anche ospiti qui, perché la collaborazione teatro pubblico è comune di Cerignola, che è un teatro che torna con affetto, che sono stato molte volte qui, tantissimi anni fa. Da direttore artistico della compagnia Altra Danza, ci può illustrare quali sono i propositi, i progetti della vostra compagnia? Beh, la compagnia è forse una delle più vecchie, antiche, storiche della Puglia, ha vent'anni, li ha fatti l'anno scorso. Noi abbiamo girato l'Italia, ha avuto alti e bassi, come tutte le compagnie, con le varie difficoltà economiche. Quest'anno, avendo la direzione artistica, per fortuna, di questo bellissimo festival, stiamo riuscendo a esportare anche il nostro prodotto e avere tanti ragazzi giovani che stanno tornando dalle varie compagnie e dai vari centri di produzione italiani, quali Atter Balletto, Puss Ballet, DAF di Roma, tutta una serie di grossi talenti che purtroppo non c'è lavoro e quindi, magari non volendo, ritornano a casa, però qui hanno trovato lavoro. Poi noi abbiamo lavorato come compagnia molte volte per il Petrozzelli, siamo stati ospiti in vari teatri in giro per l'Italia come compagnia di base a Fano, Cesena, in giro, adesso mi vengono tutti, però è una compagnia che ha una base neoclassica e contemporanea. Ecco, lei dice che c'è poco lavoro, però che cosa vorrebbe dire ai giovani che si vogliono avvicinare al mondo della danza? Guarda, è una domanda interessante, perché ieri, ad esempio, sempre in seguito a questa rassegna, noi abbiamo fatto anche un ciclo di conferenze, era all'università la dottoressa Guatterini, che è docente della Paolo Grassi di Milano, e in più è critico di danza sul sole 24 ore, poi lavora per la Scala, cioè una firma autorevole della danza internazionale. Lei ha detto una cosa importantissima, il consiglio che dà, e lo ripeto, cioè copio quello che lei ha detto, ha detto specializzarsi in uno stile, in una tecnica e approfondirla, non fare 200.000 cose per poi non riuscire a fare niente bene, cioè bisogna diventare dei professionisti, perché ormai non esiste più un lavoro sicuro, quindi o sei un professionista valido e affidabile, perché molte volte i ragazzi non sono molto assidui, sono un po' ancora troppo leggeri, perché vengono da una società molto comoda, mentre la mia generazione ha dovuto sudare molto, perché fare la danza 36 anni fa a Bari non era semplice, te lo posso assicurare, però specializzarsi, essere dei seri professionisti, allora diventi una pedina importante per un coreografo. Perfetto, grazie maestro. Grazie a voi.